Il prossimo sabato 6 luglio, un ordigno bellico ritrovato a Petrignano d'Assisi sarà disinnescato. Questo richiederà un blocco di tutte le attività nella zona per tre ore e l'evacuazione di circa 120 persone. L'ordigno era stato scoperto in aprile dai tecnici di Umbra Acque durante i lavori per la realizzazione di una nuova condotta dalla diga di Valfabbrica. Un'ordinanza che stabilisce il piano di sicurezza è stata concordata in una riunione tenutasi in prefettura a Perugia con tutti i soggetti coinvolti. Entro venerdì sarà pubblicata insieme a quella del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, con i dettagli logistici. L'ordine di evacuazione per le case e le attività presenti in un raggio di 468 metri dal luogo in cui è stato ritrovato e messo in sicurezza l'ordigno scatterà nella tarda mattinata. Le operazioni degli artificieri del reggimento genio ferroviari militari di Castel Maggiore si svolgeranno dalle 15 alle 18. Durante questo periodo saranno interrotte anche le attività dell'aeroporto San Francesco d'Assisi, distante poche centinaia di metri dal luogo di ritrovamento della bomba. Una volta terminate le operazioni di disinnesco, l'ordigno sarà trasportato dal genio nella cava di inerti di Monticchio, tra Perugia e Corciano, lungo un tragitto che la polizia stradale sta mettendo a punto. Qui sarà fatto brillare con una carica esplosiva. Data la posizione del ritrovamento, in un'area poco antropizzata, non sarà necessaria l'interruzione di servizi pubblici o di forniture. Gli interventi, contenuti nel dispositivo di sicurezza in via di definizione in prefettura, saranno minimali per ridurre al massimo i disagi per la popolazione. Questo evento sottolinea l'importanza della sicurezza e della pianificazione in situazioni di questo tipo.